Noi stiamo testando una tecnologia in orbita che probabilmente non funzionerà, ma non importa, di cui i miei ingegneri dicono ah no ma tanto questa roba non funzionerà ed è il motivo perché io la voglio portare in orbita. Quando tu hai qualcuno che ti dice senza neanche metterci la testa, ah no questa roba è impossibile, non funzionerà, è esattamente dove tu devi andare ad indagare. Quando ti dicono che è impossibile, fallo, fantastico, è esattamente lì che tu devi andare a mettere le mani.